CreaStoria è un esperimento di scrittura creativa e collaborativa. Agli giocatori viene proposto di continuare una storia. Hanno uno spazio molto limitato a disposizione, tra 60 e 120 caratteri. E in questi 60 e 120 caratteri devono attaccarsi a una storia precedente, scritta da un altro utente, e decidere in che direzione far andare la storia. Loro possono scegliere a quale storia ricollegarsi. Ed è un po' come esplorare diversi mondi paralleli e decidere in che direzione farli evolvere ulteriormente. E a loro volta queste storie saranno poi proposte ad altri giocatori per essere continuate. In realtà è un esperimento che ci serve per raccogliere dati su come può essere esplorato la docente possibile, in un certo senso, anche perché ci permette di monitorare quali sono le firmature statistiche e anche le firmature semantiche che danno origine a un numero di storie più grande, perché chiaramente alcuni frammenti sono preferiti ad altri per lo sviluppo di nuove storie. Infatti noi alla fine disegniamo questi grandi alberi di storie che partono tutti da una radice comune e poi hanno una serie di rami, alcuni più floridi, altri meno frequentati, che denotano proprio come la creatività può essere stimolata da alcune storie più che da altre.